ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video è arrivato il momento di farvi vedere i regali che ci hanno fatto al firma copie di lecce mamma mia dai dai iniziamo subito innanzitutto abbiamo questo bellissimo stegosauro guardate che meraviglia ragazzi è troppo bello non abbiamo mai avuto uno stegosauro così bello nel parco dei dinosauri ehi scusami non è vero era una bugia ecco bravo tanto non è vero vabbè andiamo avanti poi abbiamo questi due bellissimi draghi allungabili e quando si allungano bastatore tantissimo guarda qui qui abbiamo dei bellissimi disegni da parte di manuel che bello quanto siamo cucciolosi vediamo cosa ha scritto questo foglio l'ho disegnato il 3 dicembre 2022 cosa ma lo ha disegnato lo stesso giorno del firma copie magari lei ha disegnato un momento prima di venire da noi poi ha scritto se lo state vedendo un altro giorno ciao persone del futuro hai sentito arex siamo persone del futuro no ma allora siamo speciali poi ha scritto vi avviso che ogni foglio potrà essere girato ciao sono felice di stare qui anche noi siamo stati felici di vederti sì è vero vi voglio bene preferite cani o gatti gatti ovvio gatti per tutta la vita io i cani poi dice sta parte fa schifo ma non è vero il disegno è tutto bello tranquillo ma poi se lo hai disegnato lo stesso giorno del firma copie significa che sei stato velocissimo poi qui abbiamo delle fusioni finite male no vabbè geniale geniale mamma mia ma sono bellissime ci sono spettacolari ragazzi guardate sono addirittura cucite male con una differenza di dimensioni tra una parte e l'altra assurda c'è è fantastico gli amo questi disegni guarda bastatore un cucciolosissimo me ehi ci sono anch'io e ci sono anche delle ciliegie con dei dinosauri cilieggiati no no non cilieggiati di cilieggiati cosa vuoi dire arex con dei dinosauri cilieggiati sul vuoi dire dei dinosauri disegnati sulle ciliegie eh sì bravo cilieggiati sulle disegne sì vabbè certo il 20 gennaio 2023 uscirà un video musicale di cherries on the air sul mio canale youtube e noi lo vedremo senz'altro sì non vediamo l'ora poi qui abbiamo la risposta al quiz della scorsa volta e noi avevamo risposto spino samuele ma abbiamo sbagliato la risposta esatta era pinosauro personaggio dell'isola dei dinosauri ah mannaggia avevo sbagliato giochi bellissimi che vi consiglio e so che porterete allora abbiamo geometry dash light o lite lit le 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 si vabbè bastatore lo sappiamo che l'inglese non è il tuo forte sì ma neanche il tuo arex e se volete gli altri capitoli poi dub dash splash 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 the battle cats oh questo mi interessa poi pixel art fluffy fall e poi ha scritto non vi dico niente su questi giochi saranno una sorpresa mi sa tanto che li proveremo sono particolarmente interessanti soprattutto the battle cats che cos'è il brevesh vash col chieschi bastatore è un gioco arex un gioco ah ok e qui abbiamo una lettera da parte di nathan d'angelo e lui ci scrive arex bastatore vi amo tantissimo oh grazie arex sei il mio preferito però anche bastatore il mio preferito no 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 capito il tuo preferito chi è io o arex ha detto che tutti e due siamo i suoi preferiti ma il suo preferito tra me e te chi è io no ma 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 ha detto bastatore arex perché siamo i suoi preferiti tutti e due simone deve scegliere uno ma come si fa a scegliere siamo carini entrambi vabbè però io di più e dai poi ha disegnato nonna saura e veloci marco e qui invece abbiamo la fusione tra un veloci raptor e un dimetrodonte e ovviamente spunta fuori il veloci d'onte nuova figata troppo bello troppo bello e qui abbiamo un bellissimo disegno natalizio e chi è patrizio no ho detto che qui abbiamo un disegno natalizio arex a ok tu stai facendo l'albero di natale mentre io io sto indossando una cosa alquanto ridicola ma guarda quanto sei carino non lo voglio guardare invece guardalo perché è troppo simpatico io feroce e temibile tirannosauro dovrei indossare una roba simile ma si ti starebbe benissimo comunque sul retro del disegno abbiamo una lettera e che c'è scritto che c'è scritto cari arex e bastatore io ho tutti i vostri libri e vi seguo sempre bastatore fai bene a correggere arex ma a volte esageri non è vero dai christian rio da collepasso vi consiglio di giocare a jurassic world lego sulla nintendo grazie christian grazie christian un bacione e qui invece abbiamo una lettera da parte di davide e lui ci scrive ciao sono davide solazzo e ho visto tutti i video del canale il mio preferito è veloci marco ma come bastatore mica possiamo essere sempre noi i preferiti di tutti io lo sbrano quelle veloci raptor ci ruba sempre la scena ma dai bastatore anche veloci marco è simpatico poi scrive per bastatore è inutile che insegui carla tanto non ti sposerai mai e poi mai no scusa tu ci hai scritto soltanto per dirci che veloci marco è il tuo preferito è che io non sposerò mai carla bastatore non ti arrabbiare questa lettera è crudele no non è crudele bastatore se invece mi viene da piangere non è crudele è solo sincera arex così non mi aiuti ok ok sto zitto vediamo cosa c'è dietro oh beh almeno ha disegnato me e te visto vuol dire che gli piacciamo pure noi e veloci marco non l'ha disegnato oh guarda arex qui abbiamo una busta è per noi ma sì certo che è per noi tutti tutti i regali sono per noi tranne quello di prima quello di prima era per veloci marco no attenzione non era per veloci marco era per noi solo che il preferito di davide è veloci marco ah giusto però il disegno era per noi capito sì 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 ora andiamo ad aprire questa busta oh da quanto non lo dicevo andiamo ad aprire questa busta sì dai facciamo l'unboshking eeeh quante cose allora abbiamo trovato un bellissimo fumetto talmente bello che c'è persino carla guardate quanto è bella cioè il mio amore e se questo è carla vuol dire che questo sono io eh perché ho il cappellino di arex perché quello non sei tu bastatore quello sono io cosa infatti carla sta dicendo io amo te amo te a me capito cioè lo sta dicendo a me e io rispondo oh no e questo sarei io sì guarda ha persino la tua felpa quindi cioè è l'espressione nervosa immancabile quindi sì sei tu e sto chiedendo che succede infatti quindi dimmelo tu arex che succede oh bastatore calma dimmi che l'ho disegnato io questo disegno tu mi nascondi qualcosa ma non ti nascondo niente lo sai che carla non mi piace certo certo andiamo a vedere gli altri fumetti va ma ma magari c'è qualcos'altro che mi sta nascondendo no vabbè ma qui abbiamo l'intero parco dei dinosauri mamma mia quanti dettagli no ragazzi ma è spettacolare janet sei fantastica sì è vero sei fantastichissima e guarda qui e questo cos'è sembra la copertina per un eventuale prossimo libro sembriamo io e te contro contro qualcosa di grande e mostruoso a me sembra un drago sì anche secondo me un drago che paura ma è gigantesco no a me non sembra un pesco oh e qui abbiamo addirittura lo scheletro di un dinosauro ma non è solo uno scheletro arex è proprio lo studio dell'anatomia dei dinosauri per l'esattezza di un tirannosauro tu dici eh sì guarda qui viene sottolineato che ha due dita no vabbè spettacolo spettacolo e guarda qui abbiamo una a che somiglia a me a come arex ovviamente e una v che somiglia a te perché vi come 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 vastatore no vi come voglio fare la cacca è ovvio che vi come vastatore certe volte non ti sopporto e qui abbiamo la copertina del mostro di fossilonia disegnata da gaia è bellissima e c'è addirittura il logo di babbi pomodori fabbri editori e io che ho detto siete i nostri youtuber preferiti grazie grazie gaia 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 questa invece è la copertina del nostro secondo libro ovvero terrore nella foresta dei grandi sauri ed è stata disegnata da alessandro vero ed è bellissima grazie alessandro e questa è la copertina della nostra enciclopedia disegnata da antonio che bella grazie antonio poi ci dice di girare e lui ci scrive siete i miei preferiti e vi voglio un mondo di bene grazie anche noi ti vogliamo bene è vero grazie antonio allora andiamo a srotolare questi disegni ma sono grandissimi ma sono un dino venom contro un dino carnage vero qui abbiamo dino venom contro dino carnage e sopra c'è scritto ciao alex infastatore mi chiamo federico e ho disegnato dino venom contro dino carnage e qui invece abbiamo un bellissimo gozilla no vabbè super epico sono bellissimi grazie federico grazie questo invece è il disegno di dimitri o но ma 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 quello è vedete chi ha il jack e scheletosc jack skeletons arex ad va dai per quello poi abbiamo me in versione lupo mannarro ovvero il vastannaro e il pipistrarex che scorregge ovviamente e avro mangiato tanti fagioli come al solito e qui abbiamo sally né salmi ma comeei di nightmare before Christmas ah è giusto da Dimitri Campobasso e ha scritto non è un cognome cioè nel senso Campobasso non è un cognome ah no nome e cognome ragazzi e mi sembrava strano non capisci niente vastatore ma dai avevo soltanto capito male poi ha scritto per il cameraman cameraman questo perché grazie Dimitri ti mando un super abbraccio ok basta zitto hai parlato anche troppo poi dietro abbiamo Jack Scheletron in versione natalizia l'alberarex di Halloween no vabbè ragazzi sarebbe un albero di Natale però con tanti addobbi inquietanti abbiamo ragni una stella nera insomma tutta roba dark roba cacca dark dark ah ok e poi abbiamo vastatore che piange perché piango sicuramente stai pensando a Carla o forse perché mi avete conciato da renna poi scrive vi consiglio di ascoltare due canzoni su youtube cos'è e questo è Halloween ma le conosciamo e si fanno parte del film Nightmare Before Christmas cos'è cos'è ma che colore è cos'è quel bianco è donna a me cos'è io non l'ho vinto mai da rottogliano in guardia Jack ma cos'è arex basta ok scusa poi c'è questo è Halloween questo è Halloween 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 arex continua ancora un po' e ti sbrano uffa non è giusto io voglio cantare ora andiamo a vedere tutti questi fogli spero di mostrarli nell'ordine giusto iniziamo ciao arex e bastatore io sono Vittorio ho sette anni e la mia passione è lo studio un saluto a presto ciao Vittorio ciao Vittorio comunque sette anni quasi e mezzo attenzione e li compie il 5 gennaio oh cavolo tra poco eh sì noi stiamo registrando questo video il 23 dicembre guarda qui abbiamo le copertine di tutti i libri in miniatura ma sono troppo bellini e qui abbiamo bastatore con i denti gialli ma dai ma smettetela con questa storia non è vero che ho i denti gialli sì che è vero poi arex sorriso che non manca mai è vero io sorrido sempre e poi c'è l'autoritratto di Vittorio e poi ci scrive potete fare arex e bastatore in versione wakanda forever potremmo farlo ci faremo un pensierino è da un po' che non facciamo tutorial di disegno oh vediamo cosa ha scritto qui arex è un piccolo t-rex nato da due brachiosauri papà lillo cristian e mamma chiara oh come sapevi i nomi dei miei genitori è vero si chiamavano bra cristian e bra chiara poi arex è vegetariano perché i suoi genitori furono mangiati da un allosauro quindi lui è deciso di non mangiare più i suoi simili ed ora è diventato molto simpatico e intelligente eh addirittura intelligente cioè dai non esageriamo guarda che io sono intelligente bastatore certo certo poi bastatore adesso tocca a me tocca a me bastatore è un t-rex molto burbero vero è ovviamente un pregio ed è nato dal dna di suo fratello ovvero arex appena bastatore è stato dato alla luce ha visto arex fa finta di odiarlo ma in realtà lo ama eh questo è tutto da vedere ma dai lo sanno tutti che mi ami le loro avventure sono infinite ahimè si ragazzi sono veramente infinite non finiscono mai tutte le nostre disgrazie morale bisogna sempre amare il prossimo così potremmo essere per sempre felici oh questo è molto importante ragazzi grazie vittorio sono felice che tu sia riuscito a cogliere la morale delle nostre storie firma del sottoscritto vittorio grazie vittorio ti mandiamo un super abbraccio grazie vittorio davvero leggi di cuore e non è ancora finita perché vittorio ci scrive anche arex è bastatore mia mamma si chiede se arex è sordo oppure fa finta fateci sapere ok vabbè non dice ignorante no 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 ditelo ditelo ragazzi arex è ignorante comunque in realtà è sordo per davvero ed è anche ignorante guarda che ti sento ah ma allora non sei sordo sì ci sento poco ma ci sento secondo me senti soltanto quando vuoi tu hai fatto la pupù ecco appunto poi vittorio ci manda anche questo disegno e ha scritto arex è bastatore faccio questo disegno per ricordare i vostri brutti tempi passati perché vogliamo ricordare i nostri brutti tempi passati vabbè comunque da colorare in un video con pennarelli ma noi non vogliamo rovinarlo sì infatti io non credo che avrò il coraggio di colorarlo per noi è bellissimo così il disegno ah comunque i miei dinosauri pachi vi vogliono salutare pachi sarebbero dei pachi cefalosauri ciao pachi cefalosauri ciao pachi cefalosauri vabbè insomma ciao no aspetta credo di aver sbagliato i dinosauri sono pachi cioè i pachi cefalosauri cioè pachi nel senso lui si chiama pachi cioè un pachi un pachi cefalosauro ecco e poi abbiamo anche rex il t-rex solo che non l'avevo visto perché è scritto un po' troppo lontano da pachi quindi abbiamo pachi e rex e quindi ciao pachi e rex ciao pachi e rex ora andiamo a vedere cosa c'è dentro questa busta allora innanzitutto qua c'è scritto da parte di esmeralda e giorgio vladimir per arex e vastatore dai 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 non vediamo l'ora di vedere eeeh guardate quante cose mamma mia questo si che è un ambosking no vabbè no vabbè no vabbè cioè che spettacolo mamma mia è questo super ferocissimissimissimo tirano savorosto chi è non lo so ma fa davvero paura io lo adoro lo amo e qui c'è scritto per vastatore da giorgio vladimir grazie giorgio grazie no tu stai zitto perché questo è per me eeeh va bene e questo invece è per me eh sempre da parte di giorgio grazie giorgio è più bello il mio poi qui abbiamo tanti bei dolcetti che ora andiamo a togliere altrimenti arex se li fa pa tutti e dai vastatore poi questo disegno è per arex eeeh che cos'è qui c'è scritto questo è uno scivolo dei dinosauri oh mamma mia cioè veramente uno scivolo cioè è un vero scivolo esiste davvero e mi sa di sì vastatore solo che io non farei mai un giro sopra una roba simile beh sarebbe divertente vederti fare un giro qua sopra ma ma mai nella vita vastatore ma che scherzi cioè ma perché no ma mi verrebbe un colpo già al terzo scalino figurate a scivolare da un coso così comunque qui c'è scritto Alex mi piaci molto sei il mio preferito questo cuore è per te oh grazie giorgio non è giusto anch'io volevo il cuore tu stai zitto non te lo meriti e dai prenditi lo scivolo dei dinosauri io mi prendo il cuore no vabbè che figata questo dinosauro ma è dipinto con le tempere mamma mia quanti colori oh ma questa lettera è per me allora vediamo un po' caro vastatore ti voglio bene e ti ho disegnato da parte di Giorgio Vladimir mi è piaciuto tanto l'episodio del panda rosso grazie oh ma questo sono io quindi non l'avevo capito non l'avevi capito perché questo dinosauro è troppo bello non puoi essere tu ma io sono troppo bello no fidati non sei così bello ah taci e qui invece abbiamo una lettera per Alex e vastatore da Esmi apriamola apriamola oh quante cose cosa cosa ma questa è una lettera da parte di Carla quindi è per me oh no Esmi che cosa hai fatto oh guarda Alex Carla mi manda dei fiori ma sono bellissimi forse Carla pensa che sei morto vastatore ah stai zitto Carla mi ama no non ti ama si mi ama Esmeralda diglielo pure tu non è vero che Carla mi ama uffa sempre la stessa storia oh guarda e questo disegno è per me ok qui ci sono io che che cerco Carla e dico oh Carla amore dove sei Carla amore fatti dare un bacino poi ci sono io che guardo lo scheletro di un dinosauro e dico vastatore Carla è morta guarda e io che dico no no aspettate ragazzi in che senso Carla è morta eh Carla è morta no ma come Carla è morta ma cosa mi state dicendo quindi è tutto chiaro vastatore i fiori te li manda Esmeralda te li ha mandati in modo che tu possa metterli sulla tomba di Carla ma cosa dici Alex stai zitto è una tragedia no 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 calma amore cosa ti hanno fatto comunque lasciamo perdere andiamo avanti ma come lasciamo perdere oh stai zitto dai leggi qui ma ma magari c'è scritto che Carla non è morta per davvero allora per vastatore vastatore fai bene a riprendere Arex ma stai esagerando non permetterti a far diventare Arex carnivoro tu dovresti diventare vegetariano ma che cosa avete contro di me oggi Arex e vastatore vorrei che fate la sfida 24 ore prima vastatore 24 ore vegetariano e poi Arex 24 ore carnivoro per favore no non lo farei mai dai sarebbe interessante eh davvero diventeresti per 24 ore carnivoro no io no però tu potresti diventare per 24 ore vegetariano magari ti piace no non se ne parla e comunque qui non c'è scritto che Carla è viva eh che si può fare la vita va avanti si ma non quella di Carla dai qui c'è un altro disegno magari qui c'è scritto la verità oh scherzavo mannaggia questo disegno è per me e qui ci sono io che dico evviva oggi faremo un unboxing sullo slime evviva e io che dico oh no che schifo bleh mi viene da vomitare bleh si ma Carla Carla è morta vastatore ma non è vero non dire così oh esmeralda dice che è morta io non ci credo comunque boh fa come vuoi i i i i i i i fiori me 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 li manda Carla no te li manda esmeralda da mettere sopra la tomba di Carla ma non mi dite così oh zitto vastatore uffa bene ragazzi questi erano i regali che ci avete fatto al firma copie di lecce e sono tutti bellissimi grazie di cuore sì ma Carla è viva vero oh lascia perdere Carla grazie a tutti per essere venuti siete stati tanto carini e ci avete inondati d'affetto grazie 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 ancora grazie vi vogliamo un mondissimo di bene sì ma Carla è viva oh vastatore smettila solo esmeralda sa la verità esmeralda Carla è viva vero? vabbè ma adesso non ci pensare ma come faccio a non pensarci? questo è il momento dei ringraziamenti grazie infinite alla biblioteca ogni bene e alla libreria semi-mini-mini-mini-mini semi-mini-mini-mini-mini ma soprattutto a voi per la vostra presenza e la vostra pazienza grazie bimbi grazie bimbe grazie ai genitori dei bimbi e delle bimbe grazie nonni dei bimbi e delle bimbe grazie nonni e genitori dei mimmi e delle bimbe e delle ninni no aspetta mi sta imprippando ai bimbi dei genitori ai genitori dei bimbi ai bimbi tori no aspetta vabbè insomma grazie a tutti sì proprio a tutti tutti ai bimbi nonni ai geni nonni ai geni bimbi a tutti a tutti a tutti grazie a tutti noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ma Carla? oh ancora e basta esmeralda dov'è Carla?